Nedved Capello ha chiesto di riscaldarsi ad Appia ed è se vogliamo un ritorno di fiducia nei confronti di questo giocatore che dopo l'errore di Cagliari è andato tre volte consecutivamente in tribuna e non ha più fatto neanche un secondo in campo sta per rientrare in campo Nedved intanto però il calcio d'angolo è battuto palo clamoroso chiedono il gol ai giocatori della Juventus era intervenuto Cannavaro ancora una volta in anticipo sul primo palo era riuscito a toccare il pallone che poi ha preso il palo Cannavaro chiede che ci sia gol forse anche Segas ha toccato il pallone e per questo Cannavaro ritiene che l'intervento di Segas sia venuto al di là della linea tra poco rivedremo Fantini dentro per Pazzini trova a liberarsi Pazzini con il destro Giampaolo Pazzini 1-0 c'è da rivedere tutto ma che gran gol che ha fatto bellissimo gli hanno dato lo spazio per stoppare questa palla rientrare e metterla sul secondo palo all'incrocio ha calciato benissimo nulla da fare per Buffon sull'altra azione secondo me Segas ha parato poi bisogna vedere se è dentro o fuori e adesso rivedremo tutto ovviamente c'è molto da vedere in questi 30 secondi il calcio è veramente strano da una parte prende un palo clamoroso e sul ribaltamento Pazzini trova un gol incredibile allora cominciamo dal gol di Pazzini Pazzini controlla rientra sul destro e poi trova l'incrocio dei pali Buffon non può arrivare questo gol bellissimo